Ben trovato in aggiornamento con la tendenza media e lunga scadenza, diamo uno sguardo a quello che potrebbe succedere nella prima decada di marzo con degli impulsi di aria fredda che ancora dal nord Europa e dalla Russia potrebbero raggiungere tutta l'Europa orientale e quindi determinare condizioni prettamente invernali sui Balcani, sulla Turchia e sulla Grecia. Tra l'altro aria fredda che potrebbe in parte lambire anche le adriattiche. Tra il 4 e il 6 marzo però momentaneamente prevediamo un campo anticiclonico dalla Spagna, dal Mediterraneo occidentale verso le nostre regioni con ahimè una fase non piovosa che perdurerà sulle regioni nord occidentali. Quindi insomma ancora grandi piogge, grandi perturbazioni non ne vediamo per l'angolo nord occidentale, proseguirà questa fase siccitosa. Dettagli maggiori li trovate scaricando l'app di Trevi Meteo. Grazie 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 Grazie